Allegri ha ricevuto una brutta notizia questo venerdì. Resta fino alla fine per saperne di più. Il tuo like e la tua iscrizione sono molto apprezzati. Ora, senza ulteriori indugi, passiamo al video. La nazionale italiana è in un periodo di partite molto importanti per conquistare un posto all'Euro 2024. Non solo la nazionale principale, ma anche la nazionale italiana Under-21, guidata da Carmine Nunziata. Tuttavia, la pausa per le nazionali ha nuciuto solo alla Juventus, poiché è arrivata un'altra brutta notizia per il club. Dopo il taglio di Locatelli dalla nazionale italiana principale, è toccato a Fabio Miretti essere escluso dalla Under-21. Miretti, che ha segnato il suo primo gol da professionista per la Juventus contro la Fiorentina, ha lasciato la nazionale italiana Under-21. Il giovane di 20 anni presenta sintomi di dolori lombari, e ora Miretti sarà curato dallo staff medico della Juve, che spera di poter far tornare il giovane in tempo per la partita contro l'Inter. La partita contro l'Inter si avvicina, e la Juventus continua a perdere pezzi importanti a centrocampo. Allegri dovrà trovare una soluzione, poiché al momento conta solo su tre centrocampisti, Rabiot, MC Kenney e Nicolussi Caviglia.